Tiene banco sui vari forum il caso di ipotetica collusion tra Taddia e Ferretti. Abbiamo chiesto il parere di un esperto, un direttore di torneo, Enrico Mognaga, e con lui vogliamo sapere qualcosa di più sulla collusion. Che cos'è, quando un direttore di torneo può intervenire e in qualche modo anche come valuta la vicenda Ferretti Taddia? Allora sulla vicenda Ferretti Taddia voglio essere molto sincero, cerco di entrare il meno possibile nel merito perché c'è un'indagine approfondita e accurata in corso e le due persone tra l'altro come tantissimi giocatori sono anche persone che io conosco bene, quindi non voglio dare un giudizio nel merito di questa cosa. Posso solo dire una cosa, che per verificare e dare la collusion certa ci devono essere proprio dei presupposti seri, vale a dire, cioè io devo veramente collegare in un torneo non una mano singola prima di tutto, ma l'andamento di un torneo, verificare tutte le mani che eventualmente possono essere dichiarate sospette, verificare gli stack, verificare il momento in cui è avvenuto e verificare appunto il comportamento dei giocatori al tavolo. Dopodiché chi fa questo mestiere e chi sta facendo queste indagini sono professionisti, è evidente che il loro parere sarà il parere che darà un giudizio finale che può essere negativo, positivo, eccetera, eccetera. Chiaramente il mio lavoro come direttore di tornei live è un pochino diverso perché nella mia carriera di undici anni che mi occupo di poker, diciamo solo una volta, una volta nella mia vita ho riscontrato proprio certa una collusion bloccando addirittura un giocatore che stava affoldando delle carte che chiaramente erano state segnalate da un altro giocatore. Questo è stato proprio un caso dove io per forza ricorda sono intervenita e c'è stata come si direbbe in gergo di un giudice e fragranza di reato in quel caso. Racconta però come è stato allora. Allora, praticamente c'erano due giocatori al tavolo che chiaramente erano, come si dice, a mezza, amici, eccetera, eccetera. Questi giocatori si segnavano le carte e a un certo punto un giocatore segna con una mano di avere in mano 2K. Solo pochi possono magari seguire in quel momento di capire, però lui segna. Nel momento in cui l'altro giocatore manda all-in, così, non c'era né race, né niente, all-in, l'altro giocatore sta per foldare. Io gli blocco la mano e in quel caso io dico, ascoltami, se adesso tu mi giri 2K, tu sei fuori dal torneo. Il giocatore mi chiede, no, no, ma io sto solo foldando, io dico, benissimo, ti autorizzo, anzi, ti prego di girarmi le carte. Nel momento che le gira sono 2K. Cioè, praticamente, era palese che non ha voluto affrontare il suo avversario a danno degli altri giocatori al tavolo. In questo caso non c'è ombra di dubbio, anche il sottoscritto prende una decisione serena, non bella, perché non è mai bello scoprire una cosa del genere, ma inappellabile. Nessuno ha potuto dire niente, anzi, è stato apprezzato anche l'intervento. Però, in questi tornei che io dirigo, è evidente che negli anni, adesso non mi ricordo quanti tornei ho diretto, ma sicuramente ci saranno stati dei casi di amicizie o lasciami il buio, sai, le solite cose che si fanno. Scoprire un fatto del genere è, non dico impossibile, ma quasi, perché ci sono mille esempi. Giocatore short mandolin, l'altro giocatore alza le carte, ha asso 10, asso 9 suited, ha dieci volte lo stack dell'avversario. Parliamo del giocatore, tecnicamente l'altro giocatore deve entrare in call e andare in showdown. Il giocatore passa. Io, anche se vengo chiamato al tavolo, chiedo la visione delle carte e gira, asso 9, asso 10. Come io posso dimostrare la collusion? Il giocatore, basta che mi dica, guarda, lui ha fatto un raise regolare, che è il doppio quindi della puntata precedente, io non mi sento, anche se ho 100.000 fish, di giocarmi 12.000 fish con asso 9. Voi trovatemi una soluzione per dire, no, questa è collusion. È impossibile. Parliamo di un caso di collusion certa. Un giocatore mi fa sul grande buio 6.000, mi va in all-in quindi 7.200, 1.200 più l'altro giocatore che deve giocare a prescindere, passa, controllo le carte, ha 7.9, anche 10 jack, è collusion, è evidente. Perché? Perché io vado comunque a completare una mano dove non c'è neanche il 50% del raise. Quindi, come si dice in gergo, io devo chiudere gli occhi e fare call. Però sono casi difficili a giudizio. E molte volte può anche succedere un tavolo. E se il dealer non è pronto e gli altri giocatori non richiedono l'intervento del floorman, il tavolo proseguirà la mano e noi non potremo fare niente di quello che succede. Poi sull'online sappiamo tutti che, non voglio entrare adesso in una discussione che forse non ne usciremmo, sull'online ci sono problemi di fondo in Italia che sono o altre. I problemi di fondo li sappiamo. L'online in Italia col punto it ha fatto un boom enorme. È un bene per chi ama giocare, è un bene per lo Stato italiano perché chiaramente ha dei proventi certi, sicuri, matematici. Le poche room vanno bene, ma parliamoci chiaro che oggi Skype venga usato, che gli SMS si possono usare. Ci sono variati mezzi per usare chiavette diverse dall'ID di partenza, eccetera. Che è sbagliato, però dobbiamo essere onesti. In Italia noi siamo bravi in queste cose e probabilmente la maggior parte dei giocatori purtroppo usa questi metodi. Questi metodi sono sbagliati, ma fino a che non si troverà un sistema per regolamentarli, cioè come posso io vietare? A me è lui che stiamo giocando, lui a Bologna, io a Milano, decidiamo di entrare su Skype. Stiamo facendo un torneo, tranquilli, tra amici. A un certo punto lui è corto, di bottone ha 7-8, mando all'in e mi dice che carte hai? Io ho asso 10, però dovrei giocare tecnicamente, ma è un amico, lasciami il burro e passa. Quanto succede questo? È sbagliato, ma quanto succede? Sempre, sempre. È inutile che oggi, quello che mi dispiace è leggere dei post da persone che non hanno neanche tantissima esperienza in questo mondo e danno delle sentenze che non vanno bene. Le sentenze si danno quando il giudizio è arrivato, fino a che c'è un'indagine in corso, dei controlli, verranno postate le mani, verranno fatte tutte le verifiche del caso. Dare sentenze non è bello, da parte di nessuno. Io per primo non sono nessuno per dare una sentenza. Però, però diciamo una cosa, confidenzialmente, visto che sei stato di grande sincerità, tu quelle mani le hai viste, i giocatori te le hanno fatte vedere, poi verranno anche pubblicate, raccontate, sai delle mani in questione. Da professionista, un parere? Il mio parere delle mani che mi sono state raccontate, ce n'è una, sicuramente dove io, io per primo ho rilevato dei sospetti. I sospetti perché è una mano, ma non sospetti per come è andata la mano, ma perché io posso conoscere il tipo di giocatore. Però, chi darà un giudizio dovrà verificare che cosa? Tutte le mani, tutte le mani di quel tavolo finale o di quando erano in 40, di quando comunque questi giocatori sono stati seduti a tavolo insieme. Allora, la domanda è, se bisogna approvare una collusion, chi giudicherà vedrà l'insieme delle cose. Delle mani che io ho visto, ripeto, ce n'è una che è sospetta. Però, attenzione, anche qui parliamo di una mano sospetta, ma che io da direttore di torneo non potrei intervenire dicendo è collusion, perché l'altro giocatore mi spiegherà che ha deciso di passare una mano che poteva intaccare sul suo stack in un momento decisivo. Quindi, questa è l'unica mano sospetta che io, di quello che mi è stato raccontato e visto, ho potuto dire un parere dubbio. Sulle altre che mi sono state spiegate, posso pensare che ci sia stato rispetto, sicuramente. Amicizia, rispetto, collusion è un'altra cosa, perché collusion vale a dire io devo intervenire e squalificare dei giocatori. Per fare questo lo si può fare dove c'è una certezza. Dove c'è incertezza andiamo con calma. Facciamo fare le indagini a chi è pagato per fare quelle cose e sono sicuro che le faranno approfondite. Infatti, i giocatori adesso gli sono stati bloccati i conti, non possono giocare, questo dimostra già che c'è un controllo in corso. Dopodiché, quando i famosi gradi di giudizio saranno arrivati, ci sarà una sentenza, allora ognuno potrà dire la sua opinione. Però, ecco, non andiamo sempre addosso adesso su chi è ferito. Lasciamo, come succede spesso in Italia, sul giornale appare il mostro e dopo due giorni non c'entrava niente. Qui è una cosa diversa, stiamo parlando di poker, è meglio. Però, io vi chiedo solo, come persona di quasi 50 anni, di avere rispetto delle persone fino a che non ci sarà un giudizio. Nel momento che ci sarà un giudizio, ognuno è giusto, è logico, è democratico, esprima il suo parere sotto ogni aspetto.